Colleghe e colleghi, come sappiamo l'1 gennaio del 2024, tra poco più di due mesi, è previsto il rientro della clausola di salvaguardia con la quale sono state sospese temporaneamente le regole del patto di stabilità e crescita. È opinione diffusa ormai che l'attuale quadro di governance ha rivelato notevoli debolezze, tra cui la sua elevata complessità, uno scarso livello di attuazione, la carenza di incentivi a perseguire politiche anticicliche e inoltre adesso non è riuscito a ridurre le divergenze tra i diversi livelli di debito dell'Unione, né a proteggere o promuovere gli investimenti che stimolano la crescita. Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato questa mozione perché a due mesi da una scadenza così importante sappiamo pochissimo di quello che è l'andamento dei tavoli negoziali, sappiamo poco o nulla di quella che è la posizione negoziale italiana. Il Ministro Giorgetti di fatto non sta informando il Parlamento e non lo sta rendendo partecipe di quella che è una trattativa da cui dipende il futuro del Paese. Ma prima di andare al contenuto della mozione, Presidente, voglio fare un attimo un passo indietro e ricordare un passaggio importante relativamente al recepimento delle regole fiscali europee all'interno dell'ordinamento italiano. Mi riferisco in particolare alla votazione del cosiddetto fiscal compact, trattato che aveva incorporato in una cornice unitaria le principali regole di finanza pubblica stabilite in sede europea. Stiamo parlando dell'anno 2012, per intenderci Governo Monti. Il principio cardine del trattato è quello dell'inserimento in costituzione del pareggio di bilancio. In Italia è stato inserito sempre nell'arco dell'anno 2012 e sappiamo l'effetto che ha avuto sulla vita di tutti noi, lo possiamo dire, sui conti pubblici, sullo Stato sociale, sui bilanci degli enti locali. Qua ci sono tanti amministratori o ex amministratori e sanno quanto è stato complicato gestire un ente col patto di stabilità e col pareggio di bilancio. Ebbene, è giusto ricordare in questa sede che il fiscal compact è stato votato dalla maggioranza che sosteneva il Governo Monti e quella maggioranza aveva come partito principale il Popolo delle Libertà, di cui faceva parte, ed è giusto dirlo, l'attuale Premier Giorgia Meloni, di cui fanno parte tanti ministri che sono in questo Governo. E il pareggio di bilancio che è stato inserito in costituzione nell'anno 2012 aveva come relatore Giancarlo Giorgetti, anche questo è stato votato dalla Lega e dai partiti dell'attuale maggioranza. Diciamolo, in quegli stessi anni gli stessi partiti dell'attuale maggioranza votavano l'istituzione del MES, di questo stiamo parlando. Insomma, quando c'è stato da votare le norme che arrivavano dall'Unione Europea, quelle più sciagurate, i partiti dell'attuale maggioranza ci sono stati sempre. Quando c'è stato da votare il recovery fund, 200 miliardi di euro che arrivavano dall'Europa, Fratelli di Dada si è astenuta. Io direi che invece di patrioti li chiamerei un po' tafazzi forse. Ma mentre loro votavano il fiscal compact, l'istituzione del MES, il pareggio di bilancio, c'era una forza politica sola che si opponeva e che cercava di imporre quella che era la sua visione economica. Era una forza politica isolata, lo ammettiamo, il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo sempre sostenuto che gli scarsissimi margini fiscali concessi agli Stati membri da parte di queste regole fiscali avrebbero peggiorato l'economia giusto di quegli Stati membri, come il nostro, con un debito pubblico alto e che avrebbero avuto bisogno di politiche espansive e di maggiori investimenti per rilanciare la propria economia e che quelle regole avrebbero equito e di vari sociali e territoriali. Purtroppo così è stato, il Movimento 5 Stelle aveva ragione, la storia ci ha dato ragione, Presidente. Non siamo stati ascoltati per tanti anni, fino a quando nel 2020 è arrivata la pandemia, è arrivata Next Generation EU e sono cambiate grazie alla grandissima trattativa di Giuseppe Conte, sono cambiate un po' di cose in Europa. C'è stata anche la sospensione del patto di stabilità e crescita e il Governo Conte, grazie a questa sospensione, ha potuto attuare quelle politiche che hanno eretto un muro di protezione dall'emergenza pandemica e che hanno consentito finalmente all'Italia di ripartire. I numeri parlano chiaro, siamo cresciuti dell'8,3% nel 2021 e del 3,7% nel 2022 e ottenuto una riduzione del debito di 14 punti percentuali in due anni. Questi sono i numeri. Purtroppo ci sono altri numeri di cui dobbiamo parlare. Parliamo del 2023, abbiamo una crescita del PIL stimata allo 0,8%, un misero 0,8% targato Governo Meloni. Questa è la realtà. Quindi questo Governo ha affidato al nostro Paese politiche fallimentari e la stagnazione è evidente, la vediamo tutti e meno male che erano pronti. Se dovessimo fare un paragone tutto italiano tra le politiche redistributive, espansive e anticicliche di Conte e le politiche timide, austere e regressive del Governo Meloni ci renderemmo conto di quanto è importante anche in Europa, allargando il perimetro, che si eliminino quelle regole fiscali di stampo meloniano o montiano, che è la stessa cosa, e si vada su politiche espansive. Questa è la nostra visione economica del continente, Presidente. Lo scorso 26 aprile la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma che è stato oggetto di dibattito negli ultimi mesi. Una proposta, a nostro modo di vedere, non lungimirante, per innanzitutto lo scarso coinvolgimento degli Stati membri nella definizione della traiettoria di rientro nel debito. Perché permangono i parametri obsoleti, l'abbiamo sempre detto, del 3 del 60%, perché c'è un'eccessiva rigidità dei piani di aggiustamento, perché non si tiene in adeguata considerazione l'interdipendenza fra gli Stati membri e perché non è prevista una capacità fiscale a livello europeo. Queste sono le nostre critiche che abbiamo scritto in maniera esplicita con delle proposte concrete nella nostra mozione. Non c'è nella proposta della Commissione europea una golden rule, cioè la possibilità di scorporare gli investimenti produttivi dal calcolo del deficit. Sto parlando di investimenti green, digitale, per l'istruzione e per le spese sanitarie. Le abbiamo inserite nella nostra mozione di oggi, Presidente. Il Governo Conte era arrivato a superare quota 7% del PIL di investimenti in sanità, riportando l'Italia nella media con gli altri Paesi europei. Con il Governo dei tagli meloniani la spesa sanitaria nel prossimo anno crollerà al 6,2% e nel 2026 addirittura al 6,1%. Lo dico chiaramente, Presidente. È uno schiaffo al sacrificio di tanti medici, tanti sanitari e tanti cittadini italiani questa scelta. Noi consideriamo questa la priorità assoluta. Non è un Paese giusto quello in cui 4 milioni di nostri concittadini hanno rinunciato a curarsi per motivi economici. Non è un Paese giusto quello in alcune regioni. Ci sono delle persone che devono sperare di non ammalarsi perché magari l'ospedale vicino non ha le strutture adeguate o non ha il personale sufficiente. Non è un Paese giusto quello in cui per una visita specialistica c'è la necessità di aspettare due anni. Noi del Movimento 5 Stelle ci batteremo perché il diritto alla salute sia garantito. Questa per noi è una priorità assoluta. È la possibilità di scorporare questo tipo di spese. Dal calcolo del deficit è una strada che secondo noi il governo Meloni deve imboccare. Questa è la proposta che dovrebbe fare Giorgia Meloni in Europa invece di insistere nel volere una riforma che stimoli gli investimenti militari. Noi vogliamo un'Unione Europea della salute e della pace, non delle armi e non della guerra. Come Paese fondatore della Comunità Europea nonché seconda potenza manifatturiera sui dossier economici internazionali dovremmo essere in prima linea. Invece abbiamo un ministro fantasma, non lo vediamo, che quando viene non è che racconti tanto, almeno sul parto di stabilità crescita non ha raccontato nulla, che non partecipa praticamente ai tavoli che contano. Ricordo sull'Inflation Reduction Act non è neanche stato invitato. Abbiamo un Premier che è schiava ancora della sua propaganda ma non sa neanche cosa significa governare il Paese. Purtroppo è da un anno che governa e ce ne stiamo rendendo conto della catastrofe che stiamo vedendo. Da quando a Giorgia Meloni ha sposato una logica burocratica con il solo obiettivo di far quadrare i conti pubblici, ma non ha capito che se non quadrano i conti delle famiglie, se non si fa niente contro il caro prezzi, contro il caro muti, contro il caro carburanti, non sta adempiendo a quello che è il compito principale di chi governa un Paese, cioè quello di migliorare la qualità della vita soprattutto di chi ha più bisogno, invece di fare i conti. Qual è il problema? E lo vedremo poi nella prossima finanziaria. Il problema è che il combinato disposto fra un governo dell'austerità meloniana e la possibilità di ritorno del patto di stabilità e crescita significa un'austerità al quadrato, potrebbe significare manovre lacrime e sangue, un periodo buio per il nostro Paese, lo dobbiamo scongiurare perché sarebbe una catastrofe per tutti noi. E allora con questa mozione noi proponiamo una riforma della governance che stimoli la sostenibilità, la solidarietà e lo sviluppo. Sappiamo che il governo non sarà assolutamente in grado di assecondare queste richieste, ma è giusto che qui in Parlamento il governo si prenda le sue responsabilità e si prenda le responsabilità anche in caso di fallimento che noi non ci auguriamo. Per questo dichiaro il voto favorevole alla mozione del Movimento 5 Stelle sulla revisione della governance economica europea. Grazie.